buonasera allora questo è un video un po un po sofferto perché ho appena fatto fisioterapia un grazie di cuore a daniel che mi ha sistemato però mi ha fatto quelle quelle cose che ti fanno le le pompette mamma mia che male questo video è per mettere un po di chiarezza sul discorso del prezzo delle case o in affitto o in vendita alcune persone soprattutto su altri social hanno sollevato questa problematica che in realtà è una problematica per il loro piccola per il loro piccolo cervello e non ce ne ci chiamiamo intorno praticamente loro dicono ai prezzi come in italia no assolutamente no l'albania fa 2 milioni e quattrocento mila abitanti l'italia fa 60 milioni di abitanti se non 80 milioni non so neanche quanto sono adesso perché ci sono anche gli stranieri quindi sono censiti e il passaggio è che italia è molto più grande dell'albania ok quindi le 20 città albanesi non possono essere paragonate alle migliaia milioni di città italiane quindi bisogna fare un paragone con una città di mare luogo di mare e mi fa il paragone il problema è che le persone che scrivono è perché non hanno altro da fare e probabilmente vivono per scrivere sui social per avere quel momento di visibilità soprattutto nel mio canale perché comunque il mio canale sono molto visibili comunque sono sciomi sciomi sono sciomi no l'ho detto apposta sciomi e i prezzi di case in albania in vlor in balona sono aumentati perché comunque la modernità il turismo e l'evoluzione tutto sta arrivando ho anche letto un commento di un albanese probabilmente io ho parlato con altri amici albanese mi hanno detto ma questo non capisce niente lascio lo stare infatti ho lasciato stare che dice colpa di noi italiani che abbiamo alzato i prezzi un geniole un geniole uno sciomo geniole lo dico apposta ragazzi perché comunque la intelligenza artificiale molto veloce ma io anche si sta verificando questa cosa adesso c'è la gente albanese che vive fuori dall'albania che parla male della sua terra che fa una cattiva pubblicità e non capisco perché finalmente la stanno vedendo diventare una tra le mete più ambite dell'europa perché ci sono dei numeri alla mano e i numeri non li fanno il governo albanese che voi dite che è corrotto lo fanno altre enti più alti più grandi quindi l'albania è il futuro dell'immobiliare gli albanesi che vivono lontano e questo mi dispiace molto gli albanesi che vivono qua non vi calcolo neanche io a me dispiace perché finalmente nella vostra terra la vostra nazione sta crescendo talmente tanto che è diventato un fiore all'occhiello per l'europa per i vacanzieri europei perché molti ucraini stanno arrivando qua i polacchi già arrivavano qua gli italiani stanno iniziando ad arrivare tra le altre cose non è ancora un turismo economicamente alto è un turismo basso medio ma il fatto che i prezzi si alzano va a tagliare il il turismo povero o quello con pochi soldi e molti scrivono è così non verrà più nessuno no non verrà quel tipo di turista molti dicono che la croazia è finita io sento delle persone che in croazia ci vanno che stanno bene e che non hanno più la marmaglia di persone che va lì ragazzi è un'evoluzione continua io ho vissuto per sette anni in liguria e i liguri non ne potevano più dei milanesi ma pensate che i milanesi hanno portato il turismo in liguria ci sono quei comici che dicono che i milanesi quando fanno la pipì nel mare c'è la sostanza stupefacente perché si sa che il milanese utilizza quella sostanza questo è uno sketch comico non lo sto dicendo io ogni mondo e paese ora l'albania lo sa anche lui e non è proprio uno scimione l'albania si sta evolvendo tantissimo sta dando molte molte attività molti hotel a molti resort che saranno molto attrattivi anche di fascia molto alta il media tante catene si stanno spostando attenzione ancora non c'è un golf arriverà anche il golf arriveranno gli aerei arriveranno anche gli ultraleggeri chi dice che è una bolla da quanto sono sciomi non sa neanche che cos'è una bolla non lo è vlor soprattutto non lo è è il futuro io sono felicissimo di vivere qua da cinque anni mi dispiace per la gente che non ci vive ne parla male dovrebbe tornare qua ma probabilmente non riuscirebbe a fare quello che sto facendo io mi dispiace molto ma me lo dicono i residenti la gente del posto mi dice io non me ne andrei attenzione poi c'è il problema dello stipendio da 400 euro come fa a pagar l'affitto ma è trasmigrabile a 1200 euro a milano 1200 euro a milano se sei in coppia devi vivere un bilocale ti costa più di 1200 qui in coppia 400 400 800 devi avere la casa di proprietà dei tuoi genitori è uguale dappertutto e quello che sta facendo l'albania cioè puntare sul turismo puntare sulle costruzioni ci sono tutti questi video che stanno girando su floor marina sulla pubblicità devo dirvelo le case qua sono vendute le case qua le vendono chi le compra 11 a noi sappiamo chi le compra il problema o la questione è che qualcuno le compra quindi fino a quando ci sarà la richiesta di acquisto l'offerta sarà soddisfatta è una legge di mercato e io non capisco perché vi ostinate ancora a scrivere queste sciomate sui social era un video sfogo ma più che l'altro per farvi capire che comunque avete questo vizio di paragonare uno all'altro io come risposta vi porto una città dove ho vissuto tantissimi anni e so il prezzo di mercato so che a roma addirittura è più cara di milano su certi punti ma non avendo mai venduto immobili su roma non posso parlare su milano ho venduto e stravenduto in liguria anche quindi faccio gli esempi di milano perché parametro poi ci sono molti meridionali che mi dicono è ma da me costa meno e quindi cioè io non sto dicendo e non sto invogliando nessuno a trasferirsi in albania il canale che non so dove è qua sopra si chiama la mia nuova vita in albania e io racconto questo io a milano stavo benissimo avevo scelto e ho scelto di andarmene perché non volevo più pagare quelle tasse ma per una scelta mia cioè comunque la pressione fiscale mia è il 70 per cento la maggior parte delle persone che scrive qua ha una pressione fiscale del 27 perché comunque è un operaio è uno che lavora oppure uno che paga tante tasse ed è felice di farlo ben venga anche breatore paga le tasse di una parte delle sue società due in italia dove apre e paga le tasse se domani con un ragazzo albanese perché si sta prospettando si apre qualcosa a dubai pagherò le tasse a dubai ci sta le tasse qua a tenerife magari ho visto una cosa pagherò il 7 per cento ragazzi ma io a fronte di un non servizio non ho voglia di pagare il 47 che poi arriva al 70 per cento è una mia scelta non contestabile voglio bene ai miei follower amici anche lui vuole bene ai follower amici e agli sciomi invece non li ascoltiamo neanche uno mi dice perché fai un video perché oggetto di video e quindi per me da un contenuto quindi grazie sciomo e invece a voi tutti i miei amici vi voglio bene continuate a guardarmi su youtube condividere i miei video mettere la campanellina così siete sempre aggiornati e ci vediamo ai prossimi ciao ragazzi buonanotte